Sì, purtroppo la squadra ha fatto anche in dieci dal decimo del primo tempo una grande prestazione, poi il calcio è così, tanti episodi sono andati contro, poi alla fine abbiamo subito due gol e abbiamo perso la partita. Avete pagato però a caro prezzo un abbio di partita sicuramente negativo, senza parlare del singolo episodio dell'espulsione, probabilmente l'approccio non è stato quello che ci si aspettava e poi anche nel finale di partita, anche dopo il 2-1 avete subito la terza rete e rischiato di prendere anche il quarto gol. Sì, può sembrare che l'inizio non è stato l'approccio giusto, secondo me sì, ci sono stati due episodi, due falli, dopo ci sta l'arbitro perché lui è il suo lavoro, il suo mestiere, deve decidere lui quando tirare fuori i gialli, secondo me il primo fallo dopo 5 minuti il giallo se lo poteva risparmiare, poi dopo sì, alla fine abbiamo preso il secondo gol e siamo andati tutti su senza pensare, poi io ho commesso una ingenuità e l'ho fatto andare in porta contro il portiere.